Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come Fare News. Oggi parliamo di un elemento importante per le lavorazioni, che è proprio quello che tutte voi utilizzate, quindi gli uncinetti. Ma oggi andiamo a scoprire gli uncinetti, cioè i set di uncinetti Amur. E quindi cosa facciamo adesso? Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Vediamo quindi nel dettaglio questa novità, che è il set Amur della Clover. Qui ci sono le nostre due misure. Allora, partendo da questa parte qua, questo set comprende 7 uncinetti in con manico soft ergonomico e vanno dal numero 0,60 fino al numero 1,75. Quindi queste sono per le lavorazioni più piccoline. E poi abbiamo invece quest'altro set, che è sempre set ergonomico di uncinetti soft da 9 pezzi. E va dall'uncinetto numero 2 all'uncinetto numero 6. Ma vediamole anche bene nel dettaglio come si presentano. Partiamo da quello con gli uncinetti più piccolini. All'interno, prima di tutto, la confezione è stupenda anche per il colore che è. Quando li tiriamo fuori, eccoli qua. Guardate qui, vi arriveranno, sono tutti incastrati. Come vedete, spero che si veda, forse dovrei girarli in questa maniera. Sono all'interno di questa spugnetta, quindi voi li potete tenere anche semplicemente sul tavolo così e avete sempre i vostri uncinetti a portata di mano. La cosa bellissima è che già all'interno della confezione troverete anche i cappucci che sono in ferro. Quindi potete avere sempre le vostre punte, anche nel caso in cui dovete inserirle all'interno di qualche astuccio, di qualche contenitore. Sono delle punte sempre ben riparate dagli urti o quant'altro, perché gli uncinetti sono talmente sottili che possono subire delle piccole variazioni. Come vedete ci sono tutte le misure che abbiamo detto prima. Quindi abbiamo lo 0,6, lo 0,9, l'1,25, l'1, l'1,50, lo 0,75 e l'1,75. Vediamo anche nel dettaglio l'altro set a murdi uncinetti ergonomici, soft, composto da nove pezzi. Come vedete all'interno troviamo l'uncinetto numero due, due e mezzo, tre, tre e mezzo, quattro, cinque e mezzo, quattro e mezzo, cinque e sei. Come vedete sono tutti di colori differenti in modo da poterlo riconoscere velocemente. le punte sono tutte in alluminio e i manici sono ergonomici e con plastica molto soft in modo da poter lavorare al meglio le vostre creazioni. Dove troviamo questo prodotto? Certamente sempre sul sito www.tessland.com, andiamo nella sezione attrezzi, poi uncinetti, uncinetti clicchiamo su ergonomici e all'interno troveremo oltre che una miriade di altri uncinetti anche questi che sono gli uncinetti, il set di uncinetti a mur della Clover. Io come sempre vi dico se vi è piaciuto questo video mettete un like, azionate la campanella, iscrivetevi al canale, seguite tutti i vari social e noi come sempre ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!